Allo stadio 3 Stelle di Desenzano del Garda, matura la prima sconfitta del precampionato del Catania, superato per 1-0 dal Vicenza, formazione appena retrocessa nel campionato di prima divisione in Lega Pro. Il gol decisivo è stato realizzato dall'attaccante Minesso al quarantesimo minuto del primo tempo, un primo tempo che ha vissuto di luci ed ombre da una parte e dall'altra e che nelle fasi iniziali è stato comunque caratterizzato dal gran caldo e dall'umidità che ha davvero reso difficile il compito dei 22 in campo. Il Catania è comunque riuscito a mettere in mostra alcune cose positive, soprattutto la prestazione di Castro all'esordio assoluto in maglia rossa-azzurra è sembrata incoraggiante, dopodiché il Vicenza ha provato ad accelerare, ha colto un palo con Gavazzi, un legno anche per il Catania con Ciccio Lodi, la sua specialità, il calcio di punizione respinto proprio dalla traversa. In chiusura della prima frazione sul taglio di Misurac, è stato molto bravo Minesso a farsi trovare pronto e a battere in diagonale Frison, incolpevole nella circostanza, nella ripresa girandola di Cambi Maran ha integralmente modificato centrocampo ed attacco e il Catania comunque ha ripreso a macinare gioco, ha messo anche alle corde un Vicenza che non è stato più propositivo come nella prima frazione ma la sospirata rete del pareggio per la formazione rossa-azzurra comunque non è arrivata. Si chiude allora una partita che più che rappresentare la prima amichevole persa dal Catania in questo precampionato rappresenta invece nelle parole di Mister Maran e di Nicola Legrottaglia che andremo ad ascoltare un allenamento utile anche ad acquisire minutaggio nelle gambe dei calciatori per cercare di trasformare il grande lavoro molto pesante dal punto di vista atletico che viene svolto in questa fase anche oggi e anche stamattina alle porte di Verona il Catania con un caldo davvero asfissiante a tratti ha sostenuto una seduta particolarmente pesante. Detto Maran tra l'altro dalla prossima settimana il Catania cercherà di velocizzare i carichi, di velocizzare anche la manovra in modo da ottenere risposte anche più confortanti e convincenti sotto l'aspetto della produzione di gioco che a tratti anche se soltanto a tratti è stata comunque interessante. Quest'oggi in una gara che va interpretata come un allenamento quindi ovviamente di conseguenza come sempre nel calcio d'agosto nessun dramma il Catania deve ripartire comunque da questa sconfitta e cercare motivazioni anche per tornare a vincere ad ottenere un risultato positivo. Già sabato alle 17.30 quando su questo stesso campo affronterà proprio il Chievo formazione che è il rivale diretta nella corsa salvezza dell'anno della stagione ormai alle porte in Serie A.